Ehi la, sono sempre Claudio, vediamo se riesco a finirmi, mi vedete? Sì, ora questa è la macchina di un J, modificata con il micro, solito lavoro, rotellina bella che giro perfetta, facciamo andare dentro il disco, l'ho attaccata con l'amplificatore, la macchina di un'amplificatore, facciamo andare dentro il disco, l'ho attaccata con il disco, la macchina di un'amplificatore, facciamo andare dentro il disco, l'ho attaccata con il disco, la macchina di un'amplificatore, facciamo andare dentro il disco, l'ho attaccata con 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 il disco, l'ho att Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.